bentornati a questo corso di catia ripartiamo da mechanical design part design parte 1 quello che vogliamo considerare oggi sono gli angoli di sformo sul piano orizzontale come al solito andiamo a realizzare un rettangolo e estrudiamo questo rettangolo nello spazio di 100 mm verso l'alto e di 100 mm verso l'alto basso con un'estensione specchiata e ok ecco il nostro solido così definito quindi andiamo a considerare adesso il comando angolo di sformo nel sottomenu sono presenti tre distinti comandi non prenderemo in considerazione la linea riflessa dello sformo quello che ci interessano sono l'angolo di sformo e l'angolo di sformo variabile ma quando richiamiamo il comando angolo di sformo in questo modo questi due comandi si troveranno comunque affiancati allora per la definizione dell'angolo di sformo ci verranno chieste le facce che devono essere che dovranno presentare quest'angolo di sformo sformate non mi pare consono quindi selezioniamo questa faccia ad esempio e questa faccia e andiamo dobbiamo selezionare l'elemento neutro che funzionerà come riferimento quindi la prima cosa di cui ci accorgiamo è che le facce da sformare presentano un colore l'elemento neutro presenta un altro colore un altro aspetto interessante è la presenza se io adesso dovessi richiamare l'anteprima la presenza della freccia ci fa capire e anche da come è posizionato questa misurazione questo ci fa capire che verrà aggiunto del materiale se io cambiassi l'orientamento della mia freccia e richiamassi anteprima in questo modo andrei ad eliminare del materiale semplice do l'ok in questo modo ed ecco qua questo è il comando angolo di sformo l'altra tipologia di comando angolo di sformo è quello variabile abbiamo detto che lo possiamo ottenere anche direttamente da questo menu dalla definizione di sformo in generale come al solito mi verrà chiesta la faccia da modellare ad esempio in eseruzione di una ma possono essere differenti in questo caso mi viene chiesto di selezionare anche i punti salto questa parte arrivo alla selezione dell'elemento neutro scelgo ad esempio la faccia superiore e per default il programma mi posiziona due punti agli estremi dell'elemento di questo spigolo dello spigolo tra l'angolo tra la superficie da sformare e l'elemento neutro io ovviamente potrei introdurre anche un terzo punto terzo quarto quanti punti voglio adesso introduco un altro punto posso sformare una faccia due elementi punti quindi in questo caso ho due punti selezioni annulla ricominciamo da capo angolo di sformo in questo modo quindi seleziono la faccia seleziono l'elemento neutro che è il seguente poi vado a selezionare i punti allora adesso lo fa selezionare non ho capito perché prima no quindi sono presenti due punti per default sono i punti estremi io posso introdurre ad esempio un terzo punto e per questo terzo punto selezionare una dimensione dello sporno differente ad esempio di 15 mm anteprima allora in questo caso andrei ad eliminare del materiale cambio la direzione della freccia anteprima come si aggiungesse del materiale però l'angolo di sformo all'estremità è di 5 gradi mentre l'angolo di sformo nella parte centrale sarà di 15 gradi ovviamente posso andare ad impostare anche le modalità con questo dove avvenire ma non ci interesserà per adesso perché poi quando avremo introdotto un'altra tipologia di comandi come ad esempio gli operatori booleani quindi molti dei nostri problemi verranno ad essere automaticamente risolti diamolo ok ed ecco fatto ecco che cosa ha tenuto l'altro comando che consideriamo è il comando svuotamento per la definizione di svuotamento mi verrà chiesto di specificare degli spessori quindi mi verrà chiesto di specificare prima di tutto le facce da eliminare posso scegliere una faccia ad esempio la seguente e dare l'ok e quindi quello che viene ad essere creato è un contenitore praticamente dall'albero ritorno sull'operazione di guscio seleziono non una faccia ma ne seleziono ad esempio due e do l'ok andrei ad ottenere una struttura di questo tipo lo seleziono nuovamente potrei variare quelli che sono gli spessori ad esempio 3 mm e do l'ok e così via particolarmente semplice l'altro comando che consideriamo è il comando spessore questo mi permette qualora ad esempio avessi commesso degli errori nella realizzazione del mio modello di aggiungere del materiale ad esempio su questa faccia posso andare ad aggiungere uno spessore di 3 mm e così via semplice un comando interessante invece è il comando di filettatura e maschiatura per prendere in considerazione questo comando ci spostiamo sul piano orizzontale nuovamente e andiamo a disegnare un altro parallelepipedo in questo modo e lo andiamo a distrudere nuovamente nello spazio con lo stesso criterio estensione specchiata 100 mm c'è sulla parte superiore e 100 mm rin la parte inferiore immaginiamo adesso di dover forare questo elemento posso forarlo in due modi posso forarlo ricorrendo all'operazione di foro e quindi se lo facessi in questo modo selezionando questa superficie quindi il foro indipendentemente adesso da dove viene posizionato potremmo quindi definire la posizione dello schizzo utilizzando appunto posizionamento dello schizzo e quindi definire la distanza del centro da questo lato ad esempio e la distanza di questo punto da questo lato diciamo questo lo portiamo a 50 ci rispostiamo nello spazio quindi abbiamo il nostro foro tra le varie opzioni possiamo realizzare direttamente un foro che presenta una filettatura quindi definiamo che il foro debba essere filettato ne definiamo la quota e così via se io andassi adesso quindi poi quando utilizzeremo i rendering qui vedremo la filettatura adesso se io su questa faccia andassi a realizzare non un foro ma partendo ad esempio da un da una circonferenza in questo modo in questo modo con il comando tasca andassi a realizzare una tasca fino alla superficie questa ok quindi quello che otterrei non è un foro è un buco praticamente non è un foro filettato sarebbe semplicemente un foro potrei con il comando di filettatura decidere di posizionare quindi come faccia la seguente come faccia limite ad esempio seleziono la seguente e quindi potrei impostare sia il diametro della filettatura la profondità della filettatura potrei aumentare ad esempio la profondità della filettatura mi verrebbe ad essere eseguita una filettatura in questa parte quindi dalla parte iniziale fino alla parte finale do l'ok anche prima ok adesso non è visibile ma potremo vederla utilizzando il rendering lo vedremo in seguito in maniera del tutto analoga posso effettuare l'operazione di maschiatura quindi sempre nel piano orizzontale realizzo un cilindro una circonferenza la estrudo sempre con estensione specchiata di 100 mm in questo modo quindi qualora volessi realizzare un perno con presente una filettatura un elemento cilindrico con una filettatura posso richiamare per azione in questo caso sarà un'operazione maschiatura filettatura mi viene chiesto la superficie mi viene chiesto la faccia limite anteprima in questo modo otterrei un elemento filettato all'estremità ok perfetto questo tutorial finisce qui se vi è piaciuto mi raccomando condividete iscrivetevi e mettetevi il like il prossimo tutorial sarà su operazioni come ad esempio traslazione rotazione e simmetria ci vediamo al prossimo tutorial ciao 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 ciao